ben trovati dal benvenuto a giordano filippo ballerino maestro di danze caraibiche chisomba ballo liscio e stile internazionale ciao a tutti è un piacere per me essere qui tu insieme a marica siete grandi performers internazionali allora come cosa diresti a chi da un lato si entusiasma diciamo e vive tutta la passione di voler ballare dall'altro invece lo vede un po come qualcosa di beh direi comunque a chi si sente così che non è vero assolutamente cioè bisogna sempre mettersi alla prova e comunque anche per chi si reputa un legno chi non ascolta il tempo è una cosa da provare comunque tutti riescono a superare questa cosa qui ecco e che e per chi invece vuole intraprendere una strada più impegnativa quindi diciamo a livelli più alti c'è spazio ce la può fare come cosa consigli tu sicuramente allora al nostro livello è sempre importante avere una persona che sappia quello che insegna quindi un certo di una certa tipo di preparazione e quindi è sempre importante seguire tutto quello che un insegnante professionista vi può comunicare e comunque a tutto c'è un tempo si impara e uno l'importante è che abbia costanza e impegno in quello che fa ecco lo spazio c'è ma limiti di età c'è un limite di età per iniziare assolutamente no da dai quattro ai una buona notizia dai quattro in su va bene sempre grazie giordano grazie a voi